Presidente Sebastiani, dopo aver vinto e anche bene un derby, si può accusare un po' di dispiacere per la parte avversa? Ma il dispiacere c'è perché innanzitutto è una scuola abruzzese, seconda cosa la proprietà è mia amica e quindi mi dispiace oltremodo. Poi ci sono tanti ragazzi che sono anche passati per Pescara e quindi il dispiacere c'è nel modo più assoluto. Ma ho detto a qualche ragazzo del Lanciano che non devono mollare perché non è ancora finito nulla, manca un girono di ritorno. Bisogna tenere duro perché questa è una squadra che onestamente non merita la posizione che occupa in questo momento. Ordine, compattezza e qualità per il Pescara che ha accusato qualche colpo solo dopo il 2-0. Sì, noi purtroppo quando facciamo queste partite come oggi poi ci rilassiamo un po' e questo è forse un piccolo difetto di questa squadra. Mogliamo un po' qualcosa e rischiamo di subire qualcosa in più. Però oggi penso che la vittoria sia assolutamente meritata. Intanto ne ha collezionati tre di derby al biondi vinti. E per la tradizione il Presidente? Sì, però non credo sia questo importante. Quando si gioca un campionato è importante vincere per i punti perché poi alla fine se ti vuoi giocare qualcosa di importante devi fare punti perché le altre corrono. Lei non ha cena in palio Presidente? No, anche perché quando ci vediamo o pagano loro è la stessa cosa, non c'è problema. Non ce la dobbiamo giocare.